Allora, Gabriele Toccafondi, è stata la fretta far sì che i bonus famiglie finissero appensionati senza famiglie, single, coppie di fatto, eccetera? Ma forse è sbagliato il nome, bonus familiare, perché si trova in un decreto che si chiama anticrisi, e la crisi c'è, e soprattutto si fa sentire per chi ha un reddito basso. Questo voleva essere, vuole essere uno strumento per l'aiuto anche a chi è solo, o chi vive solo con la moglie, l'anziano. E quindi forse chiamarlo bonus familiare forse era sbagliato. Sicuramente il 70% della platea e delle risorse vanno a chi ha le cosiddette famiglie composte da una o due persone, questo è vero. Luise Santorini, è meglio essere poveri da soli che in famiglia, così ci pensa un po' lo Stato? Non ci sono dubbi che è meglio essere poveri da soli, salvo il fatto che un disoccupato senza reddito non ha diritto al famoso bonus, quindi non si capisce, colui che non ha avuto un reddito, una denuncia dei redditi 2007-2008 non ha il bonus. Quindi conviene essere sicuramente soli, conviene essere sicuramente separati, non è un provvedimento equo. E il sospetto è che si usi la parola famiglia come specchietto per le allodole, per dire che si fa qualcosa. Che ne pensa di misure straordinarie che vengono erogate una tantum? In questi anni ne abbiamo sentite di tutte, dal buono per i pannolini, al bonus bebè, al bonus familiare. Sono misure che quietano la coscienza dei governi, delle amministrazioni locali, che mettono così una toppa alle mancanze radicali e ormai radicate di questa nostra Italia, non ci siamo. È stato fatto notare, Toccafondi, che il bonus familiare non ha lo stesso significato al nord e al sud, dove invece va a ricaduta davvero di famiglie che hanno bisogno e che hanno anche prole, come si diceva una volta. È ancora quindi una misura assistenzialistica, soprattutto nei confronti del meridione, dicono alcuni colleghi della Lega? Io non so se sia un sistema assistenzialista, però so che 2.400 milioni di euro vengono erogati a circa 8 milioni di persone con il cosiddetto bonus familiare. Io non so se queste persone con reddito basso e con situazioni molto spesso difficili vedono questo aiuto come un assistenzialismo. Forse ne hanno proprio bisogno, magari interroghiamoci anche su questo, non cerchiamo di giudicare sempre dall'alto di un piedistallo. Poi la gente ha bisogno. Santolini, era meglio dare soldi ai comuni, vincolando ad esempio iniziative di sostegno, piuttosto che la social card a pioggia? Probabilmente delle misure più mirate sarebbero state meglio, ma non si può dare soldi ai comuni, perché sono misure di welfare che probabilmente rientrano nel discorso che sono di competenza regionale. I fondi sono assolutamente non assegnabili su alcune precise voci di bilancio, quindi questo non è possibile, ma è possibile però fare criteri che siano diversi. Mi risulta che erano previste 1.400.000 social card, sono state date 520.000, e la difficoltà ad usarle è straordinaria e lo dicono tutti. Quindi c'è effettivamente una misura che è stata sbagliata alla radice, nel senso di aiutare i poveri, ma così non... A lei difendela, tocca a fondo di Seda difendela, con una sua nota, ha detto la social card la boicotta chi da sinistra? Fa la solita propaganda snob? Sì, ho parlato proprio di salotti radical chic, dei loft che tanto vanno di moda in gran parte della sinistra, perché si critica, si fanno i titoli a nove colonne sui giornali se una social card non funziona, ma bisogna dire anche la realtà vera, cioè che 420.000 social card sono attive e funzionanti, ne sono state richieste 580.000, la differenza è di quelli che l'hanno richiesta ma non l'hanno ottenuta perché non hanno i requisiti. 420.000 persone e quindi famiglie con un reddito decisamente ma decisamente basso hanno speso, stanno spendendo 120 euro nel 2008 e 80 euro ogni due mesi per tutto il 2009. Forse prima di criticare bisognerebbe anche capire che queste persone hanno utilizzato e continuano ad utilizzare la social card perché funziona. Santorini, gli enti locali cominciano a muoversi autonomamente, penso a Bologna con la family card, penso soprattutto alla regione Lombardia che regala 1.500 euro alle famiglie con più di due figli. Ecco, questo vi piace? Questo muoversi dell'iniziativa a livello locale? Penso di sì, mi preoccupa che i comuni non hanno coperture perché come sappiamo non hanno più le entrate dell'ICI, quindi questa è la misura che il governo dovrà comunque affrontare in maniera seria, sono stata nel sud questa fine settimana, mi hanno raccontato cose veramente pesanti e faticose. Ci ho detto bene che intervengano gli enti locali, i criteri mi preoccupano, le politiche familiari sono cose troppo serie per essere improvvisate, cioè devono essere universali, devono essere effettivamente per le famiglie, non devono favorire chi si separa, bisogna distinguere l'assistenza dalla sussidiarietà. Toccafondi, manca per la maggior parte la volontà di un quadro organico, di iniziativa a favore della famiglia e tra l'altro i comuni davvero non hanno più soldi? Parto dall'ultima, i comuni ce l'hanno i soldi dell'ICI, viene trasferita dallo Stato, gli è stata trasferita la metà a luglio, gli viene trasferita la seconda metà dell'ICI prima casa, ora a gennaio, e anche questo, apro una parentesi e la chiudo, sono 2600 miliardi di euro che le famiglie che hanno un'abitazione principale non pagano più, questa è la verità, è un aiuto alle famiglie? Io penso di sì, perché restano questi soldi in tasca ai cittadini. Sui comuni che piangono miseria sono d'accordo, vediamo i problemi dei comuni, ma che piangono miseria perché lo Stato abolito l'ICI sulla prima casa è una menzogna. Sull'aspetto invece più generale delle politiche per la famiglia sono d'accordo con lei, manca ancora, e lo dico da difensore di un governo di centro-destra, manca ancora una strategia organica, stabile, duratura, in favore della famiglia, in particolar modo di quelle che hanno figli. Torniamo all'abolizione dell'ICI Santolini, perché lei diceva che queste sono misure, come anche il giusto sostegno ai salari, che sono giuste ma non la misura di famiglia. Esattamente, questo dimostra che c'è un po' di confusione, credo, nei nostri colleghi parlamentari di destra e di sinistra su cosa sono le politiche familiari. Devono distinguere tra chi ha figli e chi non ne ha. L'ICI è per coloro che possiedono una casa, punto. Se che siano single, con cinque figli, o che siano divorziati, o che abbiano zero figli, non fa differenza. Quindi è una politica per i possessori di case, così come la detassazione degli straordinari è una misura per quelli che lavorano. Non distingue tra chi ha figli e chi non ha figli. Le politiche familiari sono di questo tipo. Finché saremo su questo filone di spacciare l'ICI per politica familiare, non ci siamo. Tocca a fondo, lei è autore di un emendamento importante per stanziare 350 miliardi per assegni familiari. Sì, 350 milioni in aumento degli assegni familiari. Altro che il quoziente familiare. 350 milioni per l'aumento negli assegni familiari entro la fine del 2009 è una vittoria comune, non è mia. È una battaglia fatta con gli amici dell'Udc in commissione bilancio, anche alcuni del PD. È stata una battaglia principalmente per modificare il quoziente familiare, perché tutti avevamo la percezione della realtà, ovvero che quasi la totalità delle risorse, circa il 70%, andava a famiglie che famiglie non erano. Uno, massimo due componenti. Ma lì cos'è successo? Che pasticce è successo? È successo questo. Come ho detto prima, secondo me è stato forse errato il nome dell'articolo e quindi del provvedimento. Il Ministro è stato chiaro, vogliamo aiutare chi ha un reddito basso. Noi abbiamo tutti, dico tutti, sottolineato un aspetto positivo del bonus familiare, ovvero che si avvicina come metodo al quoziente familiare. Si prende a criterio il numero dei componenti della famiglia e l'altro criterio per il calcolo del bonus familiare è invece il reddito. Questo è da sottolineare positivamente perché questa deve essere la strada. Però i criteri poi di scelta vanno a premiare, come più volte detto, chi figli non ha. Uno, massimo due componenti. Rispetto a questo aspetto abbiamo fatto degli emendamenti. Devo dire, è difficile, era difficile anche per noi in Commissione, e dico tutti, arrivare a modificare i criteri del quoziente perché avrebbe significato togliere a persone, magari anziani, che vivono da sole con un reddito da fame. Certo, una volta promesso, emendamenti respinti. In emendamenti tutti respinti.